Il 58 Ettore e Ponti nasce dal primo negozio pilota che è nato proprio al civico di 58 Ettore e Ponti a Milano, una zona di quartiere, una zona nella quale inizialmente credevamo poco, proprio perché era un pochino più periferica, ma invece ci ha dato una risposta molto, diciamo così, valida, tant'è che adesso, diciamo, non è ancora diventato l'epicentro del design, però pian piano ci sta arrivando con tanti negozi, con tanti showroom, con tanti studi fotografici che man mano negli anni sono arrivati apportando al quartiere un gusto più di design, più innovativo, insomma, rispetto a quello che era una volta. È un Porta Romana perché noi crediamo molto nel quartiere, ci piace sviluppare proprio nel quartiere botteghe artigianali come c'erano una volta, non amiamo le catene, non amiamo questi grossi brand che vengono a invadere il mercato, diciamo, e ci piace molto regalare al quartiere un plus che ha proprio l'artigianalità come una volta, insomma, il design e l'artigianalità come una volta, affinché il quartiere possa crescere. I progetti che ci stanno a cuore sono tanti, uno in particolare, il primo, l'ultimo, diciamo, il primo e l'ultimo, nel senso che è quello che stiamo attuando a breve, che sarà il lancio del nostro e-commerce, nel quale noi abbiamo investito tantissimo e crediamo tanto. Oramai la vendita online ha preso piede in tutti i campi, anche in quello dell'ottica, per cui noi ci siamo adoperati per cercare di rimanere sempre al passo coi tempi, ecco, perché il nostro mood è proprio lo sviluppo, creare sempre cose nuove, riuscire sempre ad apportare quel valore in più, aggiunto, sia ai nostri progetti che al nostro prodotto. Grazie a tutti.